Il mercato di gennaio aperto e il Bari, presidente paparesta in testa, chiarite le questioni interne con il DS Antonelli, è al lavoro per inforzare una squadra che finora non ha certo soddisfatto i tifosi. Il girone di andata si è chiuso con la miseria di 25 punti, a più 3 sulla zona che scotta e a meno 5 dall'otto delle pretendenti alla A e si dovrà capire il ruolo che reciterà la squadra nella seconda parte, quella decisiva del torneo cadetto. Tutto è ancora possibile ma servirà un deciso cambio di passo per fare punti naturalmente ma soprattutto per trovare quella continuità di risultati che finora tra troppi stop and go ancora non c'è stata nonostante il cambio della guida tecnica. La vigilia di Natale è stata rovinata dalla sfortunata sconfitta di Brescia e nell'ultima dell'anno non è andata certo meglio con il pesante 0-3 incassato al San Nicola dallo Spezia che ha messo a nudo i limiti e le incertezze della squadra. Per il Bari urgono rinforzi e Pacifico ma nell'attesa la pattuglia bianco-rossa si è già ritrovata per il primo allenamento del 2015. Il 2014 l'abbiamo purtroppo chiuso male ha detto Massimo Donati tra i giocatori più esperti e rappresentativi e nel girone di ritorno siamo chiamati ad accelerare. Le chiacchiere se le porta via il vento e nei prossimi giorni dobbiamo lavorare intensamente per prepararci al meglio fisicamente e mentalmente in attesa del primo appuntamento dell'anno. Sette vittorie, dieci sconfitte e quattro pareggi sono numeri non positivi ha spiegato Donati ma che dimostrano la nostra voglia di fare gioco. Nessun problema anche sul suo doppio ruolo di difensore centrocampista. In difesa posso dire di trovarmi a mio agio perché vedo tutto il campo davanti a me. Occorre sicuramente più attenzione e concentrazione ha spiegato Donati mentre nella fascia mediana del campo c'è un dispendio di energie superiore ma c'è la possibilità di arrivare sotto porta più facilmente. Infine un messaggio sul calcio a mercato invernale. Per tutte le squadre il momento di una scossa di assestamento ha spiegato Donati e tra arrivi e partenze potrebbe esserci una sorta di disattenzione per chi è chiamato in causa. Credo che invece sia necessario concentrarsi sul lavoro che si sta facendo per affrontare al meglio il girone di ritorno. Chi arriverà deve sapere che viene in una grande piazza con precisi obiettivi e che deve dare il massimo. Grazie a tutti.